Volevo iniziare questo video chiedendovi scusa per l'assenza di questi ultimi giorni sul mio canale. Probabilmente qualcuno di voi si aspettava la mia opinione sull'arrivo ufficiale di Solbakken, sui mondiali, su qualche partita clamorosa come Argentina, Arabia Saudita o Germania, Giappone eccetera eccetera. Non ne ho parlato essenzialmente perché questo mondiale non mi sta suscitando interesse ed è una cosa strana perché io di solito, anche quando l'Italia non ha partecipato come nel 2018, mi sono sempre interessato a queste partite perché comunque è divertente vedere varie nazionali, vedere partite comunque di una competizione importante come appunto il mondiale e vedere appunto qualche sorpresa come è appunto successo già in questa edizione. Ma non so effettivamente quale sia il motivo, forse perché si gioca in inverno e io magari mentalmente non sono abituato a vedere le partite di mezzo ad una stagione che ancora si deve concludere, forse mi dà fastidio tutto quello che è successo prima e durante questo mondiale, non sto qui a ripetervi perché sennò veramente non la finiamo più, però tante cose non mi sono piaciute, soprattutto a livello extracalcistico. In generale vi dico soltanto che la prima partita che ho visto di questo mondiale è Spagna-Costa Rica 1-0 che si è giocata ieri pomeriggio, nonostante il mondiale sia partito già da qualche giorno. Detto questo, allora, volevo ritornare sul canale, restando però a parlare di Roma. Negli ultimi giorni comunque abbiamo parlato un po' delle varie partite che si sono giocate, un po' delle parole di Murigno, delle pagelle, eccetera, eccetera, ma volevo analizzare con voi un aspetto che riguarda, diciamo, buona parte del tifo giallorosso. Come sempre non voglio generalizzare, non voglio far passare una tifoseria come unica e un pensiero di qualcuno come il pensiero totale di centinaia di migliaia di persone, però ho notato che spesso e volentieri, soprattutto per quanto riguarda i tifosi da social, la parola che caratterizza maggiormente il loro pensiero è rimpianto. Cosa intendo col rimpianto? Spesso e volentieri, quando un giocatore, barra dirigente, barra allenatore, riesce a far bene dopo la Roma, magari rispondendo, tra virgolette, ad un periodo negativo vissuto proprio qui nella capitale, il tifoso parte con il rimpianto. La sua testa comincia a pensare, eh, ma dovevamo dargli più spazio, ma dovevamo tenerlo di più, dovevamo fare questo, dovevamo fare quell'altro. Sta succedendo negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, con Spalletti e Dzeko. Dzeko comunque sta vivendo un ottimo momento di forma, è riuscito a far vincere all'Inter diverse partite, è riuscito a segnare anche dei gol esteticamente belli, ma anche importanti. E lo stesso Spalletti, non lo sto qui a ripetere, sta facendo qualcosa di incredibile con Napoli, vincendo quasi tutte le partite, proponendo un calcio bello e divertente. E chiaramente non vuoi che buona parte dei tifosi si mettono a fare i post del tipo, eh, Spalletti dovevamo tenerlo, eh, Dzeko è mille volte più forte di Ebram, eccetera, eccetera. Le classiche frasi che magari non vengono in mente quando i loro sostituti stanno facendo effettivamente bene. Quando Ebram segnava Raffica, chi mai poteva pensare, eh, rivoglio Dzeko. Quando Mourinho ha vinto la Conference e Spalletti comunque, pur arrivando in Champions, non ha vinto niente. Chi ha detto in quel momento, preferisco Spalletti a Mourinho, penso poche persone. Però adesso che le cose magari da una parte non vanno bene e dall'altra sì, si tende sempre a pensare in questo modo. Pensavo che il rimpianto si potesse limitare a Spalletti e Dzeko, ma quando ho letto frasi del tipo, rimpiango Luis Enrique, ho rabbrivedito. Ma lo dico con tutto il rispetto possibile che ho per questa persona. Io lo dico tranquillamente, non mi interessa molto del mondiale, ma se deve vincere una squadra, io dico la Spagna esclusivamente per Luis Enrique. Perché è una persona esemplare, un professionista, una persona che purtroppo ha avuto tante cose negative nella sua vita, una che penso gli peserà per tutta la vita, sapete bene a cosa mi sto riferendo, e già solo per quello, già solo per la sua onestà, io tifo per lui. È una persona d'oro, un professionista e un grande allenatore, che dopo l'esperienza negativa con la Roma è riuscito a far bene con il Barcellona, vincendo il triplete, credo mi pare, nel 2015, proponendo un calcio spettacolare e facendo lo stesso anche con la nazionale. È vero, nell'Europea sono stati eliminati dall'Italia, ma sappiamo bene che guardando un po' la partita, se c'era una squadra che meritava di più rispetto all'altra, era sicuramente la Spagna di Luis Enrique. L'esordio importante contro la Costa Rica, vinto per 7-0, ha sicuramente alimentato ancora di più il pensiero di questi tifosi. Indubbiamente la Spagna gioca un calcio incredibile, comunque è una squadra giovane che riesce, diciamo, a muoversi con una facilità disarmante. Ho visto dieci minuti di Spagna e mi è bastato per bilanciare un anno e mezzo di nulla della Roma, per fare un esempio così, per fare una battuta così nel mezzo al video. Ma voglio specificare questo discorso sul rimpianto di Luis Enrique alla Roma. Tutti quanti sappiamo che Luis Enrique ha iniziato, diciamo, la sua carriera dell'allenatore, prima con il Barcellona B e poi, appunto, con la Roma. Ed è chiaro che i risultati non sono stati dalla sua parte. La Roma arrivò quell'anno settima in campionato, uscì subito dalla Coppa Italia, addirittura in Europa League uscì ai preliminari contro lo Slova a Bratislava e lì ci fu già un primo casino mediatico con Luis Enrique che preferì Okaka e Caprari al posto di Totti e Borriello nella partita di andata che appunto perdemmo 1-0 e già lì comunque si capì che qualcosa non andava. Poi Luis Enrique a fine stagione, lo sottolineo, decise di andarsene, non fu la Roma ad esonerarlo e poi arrivarono Zeman, Andrazzoli, eccetera, eccetera, sappiamo bene com'è andata fino all'arrivo di Garzia. Il fatto che Zeman e Andrazzoli siano andati male non deve però far passare il messaggio che Luis Enrique abbia fatto bene o, risistemo meglio la frase, il fatto che Luis Enrique abbia fatto bene dalla Roma in poi non vuol dire che la colpa di quella stagione fu soltanto della società o dei giocatori e non dello spagnolo. Questo vuoi sottolineare perché per quanto io sono d'accordo che Luis Enrique adesso sia un grande allenatore e indubbiamente se ipoteticamente decidesse di venire alla Roma sarei comunque contento non si può negare quello che è successo in passato perché comunque la carriera di allenatori e giocatori varia e cambia col passare delle stagioni. Tanti giocatori hanno avuto un inizio magari un po' sottotono ma poi effettivamente sono riusciti a fare grandi cose. Mi viene in mente appunto Luis Enrique. Luis Enrique ha fatto malissimo con noi e questo è appurato ma non è neanche solamente colpa di tutti gli altri e non la sua perché se andiamo a vedere quello che fu quella stagione io ricordo diverse cose. Innanzitutto la squadra tecnicamente non era eccezionale ma lui nonostante ciò pretendeva dai suoi giocatori un tipo di gioco che non potevano fare. Noi volevamo portare il Barcellona in Italia con Ainz, Burdisso, Bojan, Lamela, Gago, Pjanic che ancora era giovane quindi non ancora maturo. Noi volevamo con Taddei esterno destro. Io ricordo che Inter Roma la seconda giornata si giocò con Taddei tersino destro e per rotta tersino sinistro e non è una cazzata è la verità andate a controllare è vero che c'era qualche defezione oh ma Taddei tersino destro per rotta tersino sinistro oh ma siamo seri? E quell'anno voleva appunto fare questo esperimento con giocatori che non ne avevano le qualità e si è visto come è andata a finire. La Roma manteneva un possesso palla fino al 70% perché era quella diciamo la chiave del gioco del Barcellona ma era un possesso talmente sterile che comunque rischiavi di prendere le imbarcate avendo comunque più possesso palla degli altri. Quell'anno abbiamo visto veramente delle figure abominevoli. Ve ne elenco qualcuna perché io per fortuna o purtroppo in questi casi ricordo molto bene le partite della Roma del passato. Quell'anno la Roma perse entrambi i derby 2-1, perse 4-0 con la Juve allo Stadium in campionato e 3-0 in Coppa Italia perse in casa 2-1 con la Fiorentina che si salvò a due settimane dalla fine del campionato perse 4-2 con Lecce, 3-0 all'andata sempre con la Fiorentina con il Milan perse all'andata e perse al ritorno. L'uniche gioie che mi vengono in mente, forse l'unica è Roma-Inter 4-0 però che non si sa come mai siamo riusciti a fare la partita della vita e a vincere dominando dal primo all'ultimo minuto. A parte quella, ricordo veramente pochissime cose positive di quella squadra e ci tengo a sottolineare che guardando quello che è successo dopo l'avrei anche tenuto Luisa Enrique. Ha deciso lui da uomo di andarsene perché ha capito che magari non era il progetto fatto per lui e poi è andato a vincere altrove. Contentissimo per lui, ci mancherebbe altro. Io sono felicissimo che abbia avuto le sue soddisfazioni sul campo e spero che ce n'abbia da vendere fino a fine carriera. Io lo auguro veramente di cuore. Ma da qui a rimpiangere quel Luisa Enrique ce ne passa tanto. Ce ne passa veramente tanto. Perché il fatto che un allenatore sia poi cresciuto e abbia fatto bene non vuol dire che in quel momento la colpa non era la sua. Perché, come si suol dire, sbagliando si impara. È vero anche che poi è andato ad allenare squadre che potevano effettivamente portare quella sua idea di gioco sul campo perché Barcellona, Spagna sono squadre che qualitativamente sono di un certo livello ma è anche vero che senza D e senza determinati giocatori non so se la sua idea di gioco si potrebbe effettivamente portare. Spero di essere stato chiaro. Non dico che è limitato ma penso anche che magari mettendolo al posto di Murigno in questo momento non so effettivamente quanto meglio riesca a fare. E non lo dico perché Murigno va difeso a spada tratta anzi, il prossimo video che uscirà spoiler è un'analisi su alcune sue parole che non mi sono piaciute ma è per farvi capire che serve un po' un connubio tra giocatori e allenatore e parlare di un allenatore, di una sua esperienza di più di dieci anni fa come se appunto la Roma non lo avesse aspettato mi sembra ridicolo perché è vero che poi è cresciuto ma tante cose sono cambiate guardando ad esempio quella squadra Kier fece una stagione imbarazzante è vero che poi è cresciuto ed è diventato un ottimo giocatore ma la Roma può avere il rimpianto di un giocatore che ha giocato 40 partite e non ne ha azzeccata quasi una? Cioè qua non parliamo di uno che hai fatto esordire non ti è piaciuto e l'ha dato via lui in un anno non ha fatto niente di buono e il riscatto era sugli 8-9 milioni la Roma non ce le aveva e non li voleva spendere per lui e ci poteva stare è andata così ma io non ho il rimpianto di un giocatore come lui perché è chiaro che quando succedono certe cose le colpe siano da condividere e non sia soltanto colpa della stessa Roma chi dice che la Roma non lo ha aspettato e lo ha bruciato senza dare una minima responsabilità anche a lui vuol dire che vuole semplicemente mettere la Roma come diciamo ambiente negativo per chiunque come se non avessero anche loro delle colpe quando magari le cose vanno male spero di aver reso chiaro il discorso mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mi lasciate un mi piace per supportarmi trovate tutti i link dei miei profili social qua sotto in descrizione io vi mando un saluto e ci vediamo o oggi pomeriggio per il secondo video di giornata oppure domani sempre con quel video che però caricherò diciamo domani pomeriggio vedo un pochino questo come va se questo video va bene comunque che ve ne seguite e commentato magari ne carico due in un giorno se vedo che appunto invece magari va un pochino a rilento il che ci può stare perché sono incostante da far schifo caricherò il secondo video domani pomeriggio un saluto a tutti sempre Forza Roma e alla prossima